Cura è una web company che offre servizi sociosanitari assistenziali facilmente e velocemente raggiungibile tramite quattro modalità. Vediamole! Ciao, sono Arianna. Oggi vi parlerò di come mettervi in contatto con Cura per informazioni e assistenza. Il metodo più comune è quello telefonico al numero. Dal lunedì al venerdì il servizio è attivo dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Oppure potete contattarci tramite l'indirizzo email info-cura.plus oppure iscrivendovi al canale YouTube e commentando i nostri video e tramite la nostra pagina Facebook. Cura offre risposte esaustive ed immediate. Sentitevi liberi di contattarci per qualsiasi esigenza. Un saluto a tutti!